anche la palanuoto in questo caso la bagna 90 riparte si ripartiamo ci siamo abbiamo confermato già da qualche giorno l'iscrizione al campionato di serie 2 per il prossimo anno abbiamo sicuramente l'ossatura della squadra che poi non è altro che la squadra under 20 che è nata cresciuta a lavagna sono elementi del nostro vivaglio che sono diciamo l'ossatura centrale della squadra e poi c'è qualche giocatore mischiato di esperienza ancora e poi qualcuno ancora probabilmente in arrivo però sicuramente faremo di tutto per fare una squadra competitiva molto diciamo made in lavagna e sicuramente una stagione che si che si sta preannunciando difficile ovviamente perché comunque sia ci sono delle defezioni nelle iscrizioni quindi diciamo è uno scenario molto cangiante che non è facile prevedere ragazzi che provengono anche dai settori giovanili nostri locali del certo assolutamente abbiamo diciamo un gruppo ormai consolidato di ora non voglio fare i nomi perché non vorrei però ecco abbiamo sette otto giocatori su 13 che sono che provengono dalle nostre giovanili sono partiti da da piccolissimi arrivati all'under 15 all'under 17 all'under 20 hanno raggiunto due anni fa un eccellente risultato a centrare le finali nazionali under 20 e fare la final four a roma purtroppo siamo arrivati quarti ma abbiamo dei ragazzi veramente validi sui quali infatti puntiamo per il futuro